Sanità, la Toscana sale di una posizione tra le regioni italiane per la qualità dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario è tenuto a fornire ai cittadini e torna sul podio nazionale dopo Veneto ed Emilia Romagna dalla quarta posizione dell'anno scorso, quando era dietro al Piemonte. È dal 2012 che la Toscana è riconosciuta tra le regioni più virtuose sul piano delle prestazioni sanitarie. Abbiamo recuperato non solo una postazione, eravamo quarti lo scorso anno e quest'anno siamo terzi, ma abbiamo recuperato anche in termini di punteggio, arrivando a 220 punti su 225 che è il massimo assoluto. Quindi una sanità che collocandosi già a livelli molto alti è comunque capace di migliorare ancora, direi che è un ottimo segnale e sicuramente è un merito principale dei tanti operatori che dalla classe medica fino alla classe infermieristica, ai tecnici, ai tecnici della riabilitazione, a tutti i professionisti che lavorano in sanità fino agli OS che hanno lavorato bene e ci hanno consentito di essere apprezzati anche a livello nazionale sulla qualità dell'assistenza. Nella valutazione positiva dei livelli essenziali di assistenza in Toscana pesano molto i passi avanti fatti in materia di prevenzione, dove il miglioramento rispetto al 2017 è sensibile. La percentuale di bambini vaccinati per polio, difterite, tetano, epatite B, per tosse, emofilos, influenza e supera la soglia del 95% in tutte le asle della Toscana. Stesso risultato per la copertura vaccinale contro morbillo, parotite e rosolia nei bambini ai 24 mesi. Non cresce invece molto la percentuale di anziani che fanno il vaccino anti-influenzale. Abbiamo migliorato molto sulla prevenzione, devo dire che la campagna vaccinale ha dato i suoi effetti. Siamo tornati sopra il 95% di percentuale di vaccinazione, grazie a mio parere anche alla legge sull'obbligo vaccinale e questo ci ha consentito anche sul fronte della prevenzione di migliorare molto. Abbiamo dati buoni anche sugli screening. Poi in tutta la Toscana stiamo migliorando, nonostante fosse un po' a macchia di leopardo la partecipazione e l'adesione agli screening, però stiamo migliorando molto sotto la regia di Ispro. Sulla base degli indicatori presenti nella griglia LEA, con cui vengono valutati i livelli essenziali di assistenza, in Toscana l'assistenza ospedaliera si conferma tra le migliori in Italia, standard raggiunti ovunque con la sola eccezione dei parti cesarei in maternità di primo livello, dove, a fronte di una percentuale massima prevista del 15%, la Toscana si attesta al 17,6%. L'assistenza ospedaliere è quella per la verità che registra il dato migliore. Siamo un po' più indietro sul territorio e questo è sicuramente il settore dove dobbiamo migliorare di più. D'altra parte, proprio questo rafforzamento del territorio è oggetto del patto che abbiamo sottoscritto e che sottoscriveremo, insomma è già andato in delibera, con le organizzazioni sindacali proprio per registrare gli obiettivi che dobbiamo darci da qui alla fine del mandato. Sicuramente quindi il rafforzamento delle case della salute, dei percorsi di sanità territoriale, della presa in carico della cronicità, questi sono gli aspetti sui quali dobbiamo ancora lavorare e meglio per portare a casa risultati ancora migliori. I 220 punti assegnati alla Toscana per il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza rientrano in una scala di valutazione che va da meno 25 a un massimo di 225 e il set di indicatori è rappresentativo dei diversi ambiti sanitari, cioè assistenza collettiva, assistenza ospedaliera e assistenza distrettuale. Su quest'ultimo fronte, quello dell'assistenza distrettuale, sono stati gli indicatori relativi alle strutture che erogano assistenza ai disabili, gli unici a non raggiungere il punteggio massimo, pur mantenendosi subito sotto lo standard di eccellenza. Nel complesso, il bilancio complessivo dell'efficienza in sanità colloca la Toscana al vertice subito dopo le province autonome. Pur nei finanziamenti a livello nazionale estremamente limitati e ridotti, pur nelle limitazioni che subiamo per l'assunzione personale. Abbiamo una sanità che ha retto e che si è mantenuta a livelli di assoluta eccellenza, facendo anche qualche miglioramento per certi versi. Abbiamo sicuramente rafforzato la sanità territoriale, le case della salute sono aumentate, i letti di cure intermedie sono aumentati, la sanità territoriale d'iniziativa sta crescendo e sta dando risultati sempre migliori. Su questo però, insomma, dobbiamo sicuramente ancora crescere. Anche limitando il campo alle regioni che si collocano nella fascia più alta della classifica dei livelli essenziali di assistenza, la Toscana è stata quella che ha compiuto i maggiori passi in avanti, riducendo progressivamente le criticità, limitate ad alcuni ambiti specialistici delle liste d'attesa. Stiamo vedendo gli indicatori di questi giorni rispetto a quelli di qualche mese fa, che ci fanno vedere tanti più verdi di quanti ne avessimo prima, con solo un paio di gialli e quindi solo un paio di situazioni più critiche, anche se non deficitarie, quindi se non sconfinano nel rosso. E quindi io sono convinta che da qui alla fine della legislatura potremo migliorare moltissimo anche sul tema delle liste d'attesa, che è forse una delle sfide più importanti che ci siamo trovati a dover gestire in una situazione di scarsità di risorse economiche e di personale, che poi sono quelle che ci aiutano ad affrontare meglio il tema delle liste d'attesa. Un tema su cui la Regione ha già preso provvedimenti, attivando un piano sistematico di miglioramento con l'obiettivo dichiarato di eliminare anche le criticità rimaste. Però stiamo migliorando moltissimo, abbiamo verificato la scorsa settimana che siamo assolutamente in linea rispetto ai tempi per gli interventi delle problematiche di carattere oncologico e quindi quelle più urgenti, sulle quali abbiamo l'obbligo di intervenire al massimo entro 30 giorni, però siamo praticamente dentro tutti i parametri e anche sul resto stiamo migliorando moltissimo, tenendo presente che noi abbiamo messo in piedi un piano per affrontare e si è attesa che non fosse un piano episodico, cioè che dà un risultato positivo oggi ma poi tra qualche mese siamo punte a capo, ma un piano invece di rafforzamento sistematico che possa poi non solo portare oggi un buon risultato ma possa mantenerlo anche nel tempo. A mantenere alta la qualità dei livelli essenziali di assistenza in Toscana, previsti dalla griglia LEA in ogni caso, spiega l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, è la struttura composta a livello regionale da medici, infermieri, tecnici e operatori, in aggiunta agli investimenti che negli ultimi anni sono stati fatti in nuovi ospedali e nuove tecnologie e che per i prossimi anni prevedono già l'impiego di risorse per un miliardo e mezzo di euro. Grazie. Grazie.